Buongiorno, Vladimir. Siediti, per favore. Inizieremo la lezione tra qualche minuto. Sì, va bene, insegnante. Ma non credo abbia senso imparare più cose in italiano. No. Perché? Perché dici questo? Sembri un po' triste. Quello che è successo? Sto studiando italiano e imparando molte cose, ma non ho nessuno con cui esercitarmi. E ho applicato alcuni consigli che mi hai dato l'ultima volta, ma ancora non ne ho trovato nessuno. Vedo. Bene, ci sono alcune cose che puoi fare per trovare persone con cui praticare l'italiano. Veramente? Mi aiuterai, allora? Grazie mille, insegnante. Sì, certo. Ed è importante per molte ragioni. La pratica rende perfetti Conversazioni reali, per creare fiducia, feedback o semplicemente per Fai amicizia Cosa puoi fare, allora? Bene, una cosa che puoi fare è utilizzare i siti web per l'apprendimento delle lingue. Siti web come Busu, BBC Learning Italian o British Council offrono risorse E attività per Imparare l'italiano Spesso hanno sezioni comunitarie Dove puoi interagire con altri studenti Utilizza questi siti web per esercitarti negli esercizi E poi discuti i tuoi progressi con gli altri Molti siti web dispongono anche di funzionalità di chat Dove puoi porre domande e ottenere feedback da madrelingua o studenti avanzati Cos'altro? Questa è una cosa che facevo quando studiavo italiano Partecipa a workshop e webinar virtuali Lo facevo e funzionava molto bene Trova workshop virtuali e webinar su argomenti che ti interessano Molti siti web Spesso organizzano eventi gratuiti o a pagamento in cui puoi apprendere nuove competenze Questi eventi sono solitamente in italiano I darti la possibilità di ascoltare e porre domande Partecipare ai workshop ti aiuta a praticare l'italiano professional setting Puoi anche incontrare altre persone e fare rete con loro Questo è quello che ho fatto Mi abbonavo ad alcune redazioni e solitamente offrivano seminari e conferenze gratuiti Quindi mi sono sempre iscritto a quegli eventi e ho partecipato E mi sono fatto molti amici per praticare l'italiano Questa è un'altra cosa che puoi fare Seguire gli influencer di lingua italiana e commentare Segui gli influencer sui social media che pubblicano contenuti in italiano Potrebbe essere su Instagram YouTube o Twitter Interagisci con i loro post mettendo mi piace Condividendo e soprattutto commentando in italiano Rispondi al loro contenuto o fai domande Questo ti aiuta a esercitarti a scrivere e a comprendere l'italiano Puoi anche connetterti con altri follower che hanno interessi simili Sul serio E questo è bello Molti dei miei studenti utilizzano questo metodo Usa i bot per l'apprendimento dell'italiano Alcuni chatbot sono progettati per aiutarti a imparare l'italiano Bot come Replica o Mitsuku Posso conversare con te in italiano Parlare con questi robot ti aiuta a esercitarti nella scrittura E capacità di comprensione Puoi fare loro domande Parlare della tua giornata O gioca con loro a giochi linguistici Alcuni di questi bot utilizzano anche voci artificiali in italiano Quindi, loro potranno risponderti e tu potrai rispondere anche inviando un audio È semplicemente fantastico Questa è una cosa che facevo anche per esercitarmi Guarda e commenta i live streaming Molte persone trasmettono in live streaming giochi Eventi o discussioni in italiano su piattaforme come Twitch o YouTube Live Guarda questi live streaming e partecipa alla chat Commenta ciò che sta accadendo E interagire con altri spettatori Questo ti aiuta a praticare e comprendere l'italiano in tempo reale Cos'altro? Connettiti con i partner linguistici sul sito web di Couchsurfing Il sito web di Couchsurfing non serve solo per trovare posti in cui soggiornare Ha anche una comunità Dove puoi trovare partner linguistici Puoi connetterti con gente del posto che parla italiano E vuoi imparare la tua lingua Puoi chattare online o incontrarti di persona se ti trovi nella stessa zona È un buon modo per praticare l'italiano e conoscere culture diverse Provalo Utilizza i quiz sulla lingua italiana Rispondi ai quiz online in italiano per esercitare le tue abilità linguistiche Siti web come Quizzizz o Cout Fare quiz su vari argomenti Puoi rispondere a quiz sulla grammatica, sul vocabolario e altro ancora Alcuni quiz sono multiplayer Così potrai competere con altri studenti e praticare l'italiano in modo divertente e competitivo Cos'altro? Unisciti ai fan club di sport virtuali Funziona davvero bene Se sei un appassionato di sport Unisciti ai fan club virtuali dove le discussioni avvengono in italiano Siti web come Bleacher Report o Reddit hanno forum per diverse squadre ed eventi sportivi Partecipare a conversazioni su partite, giocatori, risultati E strategie Questo ti aiuta a praticare l'italiano mentre parli di un argomento che ti piace Lo faccio anche io Qualcosa che puoi anche fare è Partecipa ai gruppi online di amanti degli animali domestici Unisciti a gruppi online in cui gli amanti degli animali discutono dei loro animali domestici in italiano Avere forum in cui puoi parlare di cura degli animali, addestramento, animali domestici e storie Partecipare a queste discussioni ti aiuta a praticare l'italiano mentre parli di un argomento che ti piace Naturalmente questo è solo un esempio Puoi anche unirti ad altre comunità online come Fitness, sport, cucina o qualsiasi altro argomento che ti interessi Ce ne sono molti in italiano Infine, se non riesci a trovare nessun posto dove incontrare persone per praticare l'italiano, fallo da solo Crea e condividi contenuti in lingua italiana Avvia un blog, un vlog o un account sui social media Dove crei e condividi contenuti in italiano Scrivi post, realizza video o condividi foto con didascalie in italiano Questo ti aiuta a praticare l'italiano regolarmente Puoi anche ricevere feedback dal tuo pubblico Quindi non ci sono scuse Esistono molti modi per trovare persone con cui praticare il tuo inglese Non arrenderti Grazie a tutti Grazie a tutti